ciao e bentornati sul canale bentornati carissimi amici oggi ci sono anche io e quindi comincerò magari io a giocare però non mi piaceva come vestito e vabbè l'ho cambiato io nello scorso in un video e io lo tengo così mi dispiace fa niente non ti preoccupare tanto sono capace lo stesso il problema che se è un punto che non mi piace te lo passo vieni qui tanto abbiamo l'autonomia di movimento ok sì speriamo sia un quadro che mi piace prima sono arrivato secondo secondo prima di essere una partita che ho fatto mentre tu studiavi in due gare secondo secondo sono arrivato nell'ultima gara non mi era accorto neanche che era l'ultima gara eravamo in nove e sono caduto per settimo ne mancavano due quello di sopravvivenza dove c'è questo cosa che fa così no c'erano cadevano tutti i tasto mamma mia questo no ti prego beh devo dire che sono stata abbastanza brava ho perso sempre però in queste ultime partite quando mi è capitato ero stata abbastanza brava hai fatto dei passi da gigante perché rispetto a quello che facevi le prime partite guarda che era è incredibile ci vedi sì sì ci vedo ci vedo via sono primo sono avanti vai che parto il vantaggio che perderò tutto il mio vantaggio sicuro mai non mi ricordo neanche più come si gioca è troppo tempo che non gioco saranno passati due giorni questi giorni sto giocando praticamente solo io esatto mi sono appropriata della playstation intanto sono già fatto i primi due caduto è più perso la direzione vediamo se ricapita quello che è successo con il video incredibile quando sei finita sulla sul ferro sul ferro sotto oplala saltone e saltone bravo non so dove sono ma io salto no no che io ti odio ma ti odio fino dal profondo del cuore che a chi mi ha fatto cadere poi riguarderò il video no ho sbagliato no no vai 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 mi sto agitando pure io ragazzi no ma perché ma perché io devo odiare così tanto questo gioco lo devo odiare ragazzi è un bel gioco fall guys però ti fa arrabbiare che la metà basta guarda ti fa venire voglia quasi da spaccare di spaccare il controllo ma io vediamo se ce la faccio ad arrivare perché no io in questi giorni non sono mai arrivata qua 37 ce la facciamo quadrato bravo quadrato salto in avanti è appena in tempo è a volte sono più bravo questa volta ho fatto un po di fatica vediamo se c'è qualcuno di bello che mi piacerebbe avere un domani non ne vedo di carini va bene a parte vabbè il cinquantesimo che tra un po raggiungeremo yes sir perché siamo non ti ho aggiornato ma siamo al quarantottesimo ho visto anche un sacco di monete hai comprato la roba nuova oggi no non c'era niente che mi interessava a me quello sciolto sembrava bello però con le corone si comprava ragazzi prima prima io ho fatto un video da sola e cosa fai spoileri no non spoiler ok ultimo ultima fila qui massacrano è successa una cosa bruttissima cosa è successo sono ultimo ma quanto si è una mia spinta ero quasi c'è stavo cercando di salire lì e ora mi ha spinta giù ho perso ma quante posizioni che ho recuperato ecco man travolto appunto io qua sono bravina oh ti sei beccato i pugni ho preso in pieno io ho beccato il presente quello dove c'è la pista dei buchi l'hai presente? che male sono ancora vivo però eh eh ce l'hai presente quella con i buchi? eh sì dove ci sono i rulloni che fanno così ma che brutto salto che ho fatto sì brutti anche quelli non mi piacciono ecco c'erano quelli io me la son cavata benissimo con quelli sì ah brava e te sono capitate i pugni? eh ananas per favore ah chi è che ah c'è il vento di occhia che mi butta indietro così ho seguito il tuo consiglio lo sai? oppa salto no 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 non siete cattivi com'è io vi odio ahahah ma perché? salta il rosso vai ma allora? allora? ma quanto mi fa in cavolo quando fanno così? oh nooo non ci posso credere non ci posso credere ho perso ho perso perché non è andata a posto ho perso non ci credo ragazzi non ci credo ma manco io non ci credo quel punto è complicato o arrivi presto adesso mamma mia di questa? ho fatto una vendetta sai cosa facciamo vedere adesso? andiamo a fare una delle gare oddio mi stanno cadendo le cuffie settimanali insomma quanti punti che abbiamo? beh una l'ho fatta vedere in un video si si ho fatto un video dove l'ho fatta vedere allora ci cambiamo e prendiamo la fanfavorites e vediamo com'è via è bruttissima te lo giuro è brutta? ah c'è stata una è presente quella con lo slime finale? no lo odio io quella è quella oh mamma c'è stata una volta in cui abbiamo fatto ci hanno dato una facilissima abbiamo fatto tanti di quelle monete ma tante di quelle monete quale? quella che c'era da sopravvivere no qual'era? quella si no per me era difficilissima per te era facilissima per me era facilissima e schiacciata x ah me l'ho schiacciata ma l'hai già fatto tu questo? quale? si ci ho provato io no almeno ci ho provato sai a volte magari non mi piace ma riesco sai che non mi ricordo più qual'era quello facile 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 che avevo fatto tantissime volte boh che continuavo a fare? ah quello dei rulli che erano quattro rulli che giravano e ti arrivava la roba addosso tu dovevi saltare da un rullo all'altro e poi diventavano tre poi due e acceleravano che di solito arrivavo quasi sempre in finale ho fatto tanti di quei punti e per quello che siamo andati così avanti nei livelli si con calma comunque eh non abbiamo premura solo 52 persone balli? balli? si 60 così però non vedo lo schermo aspetta ma tu te ne è capitata una diversa dalla mia si vede che è cambiato? no credo no quello di oggi era questo eh è quello ci sono le ventole allora facile 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 difficile l'ultima parte ma fattibile proviamo non mi piace molto questo livello però beh sinceramente neanche a me ma a me non è capitato il tuo poi sono pure ultimo ti prego speriamo in bene no malissimo o ne spazza via un po' di gente subito così in prima battuta un due tre hoplala ciò che hai detto è stato esaudito hoplala ehi hoplala ancora urca urca mi ha buttato avanti di 100 mila mila metri allora qui bisogna fare il tuffo bionico manca è che l'ha servito è servito ecco quando serve sono passato avanti ma che bella sta cosa hai visto? straordinario salta avanti questa volta è andato bene abbiamo guadagnato un sacco di terreno e ancora nessuno si è qualificato ma ho dimenticato di saltare volevo saltare in avanti saltone perfetto lui passa in avanti in questi giorni oh mi devi lasciare stare arcobaleno eh mi ha buttato di qua giù lungo il pendio riprovaci ancora c'è la mozzarella lì vabbè vabbè no preciso proprio anch'io ma in che senso la mozzarella ma no c'è un cavolfiore arcobaleno lì orribile vabbè niente eh vabbè eh va così hanno già vinto 39 40 eh ma porca miseria ho perso ma che schifo che ho fatto sta partita ma sono stato proprio brutta roba non sei stata molto brava eccolo lì il cavolfiore arcobaleno lo vedi? ma non è un cavolfiore vabbè io esco e adesso sai cosa faccio prima di uscire completamente salutare i nostri amici invitarli a iscriversi al canale mettere like mettere like schiacciare la campanella per rimanere su accendere la campanella per essere aggiornati e avere tutte le notifiche esatto prima di fare ciò cambiamo di quando esce un video cambiamo decido io questa volta come lo voglio un vestito quando ci scommettete che lo vesti da squalo? no non lo vesti da squalo stavolta non lo so non ho ancora deciso forse lo vesti no questo non mi piace forse lo vesti da squalo vediamo sotto vediamo sotto ma sotto c'è da sotto da squalo no abbiamo preso no ecco vabbè questo ci si adatta molto bene vuoi pantaloni seri? e quindi lo ho vestito da squalo qui siamo quasi al 49esimo livello diciamo questo qui non è bello scusa si lo prendo lo prendi? non l'avevi visto oggi cioè forse l'avevo visto ma non mi piaceva con il color rosa questo è un sotto viola sinceramente a me non piace good x questo è grigio lo vuoi grigio? si va bene però ma si prendiamo il grigio è un po' brutto eh come colore eeeh quindi? noi vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video ciao ahhh